Questo pezzo di carne che il signore ci ha donato in più, che poteva donarlo agli uomini e ci faceva pure un favore, questo pezzo di carne qui sotto che sembra una specie di collo di pellicano che si sviluppa dopo una certa età noi donne, cioè io mi chiedo ma che serve? Poi dice perché le donne dopo una certa età, no, mangiano senza sale, è normale perché non possono fare più così, dice sono ipertesi, sì perché tengono i nervi a fior di pellicano!